Head Age Lit 130, lo scarpone di casa Head per sciatori in evoluzione. Gli elementi chiave dello scarpone sono tecnologia High Top per il trasferimento diretto degli impulsi da sciatore a sci, Duo Flex per avere maggiore precisione in curva e Smart Frame per un supporto migliore sul tallone per trasmettere energia. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di 102 mm. Head Edge 130 testato a secco, uno scarpone che sicuramente ha una calzata molto molto comoda, il piede si inserisce senza nessun problema all'interno dello scafo. Una particolarità di questo scarpone è che le plastiche sono un blocco unico, quindi non c'è differenza fra il gambaletto e la parte inferiore del piede, ma tutto quanto è un blocco che risponde immediatamente. Questo è fatto apposta sicuramente per sciatori di livello L4, L5 che cercano più confidenza, che non hanno troppa sicurezza, è fatto per facilitare l'ingresso in curva. Non vedo l'ora di provarlo domani in pista per vedere effettivamente l'efficacia di questa nuova tecnologia. In più è stata utilizzata una nuova tecnologia anche sul gancio superiore del gambaletto per un minore sforzo nel momento della chiusura. Inserendo una doppia leva la chiusura viene facilitata, si utilizza la metà dello sforzo per chiudere effettivamente lo scarpone. Devo dire che una volta chiuso comunque mi sembra abbastanza aderente sia alla parte superiore che a quella inferiore, ma sono curioso di vedere come si comporta in pista. Scarpone comodo, molto comodo, facile da calzare. L'ho trovato però abbastanza largo rispetto comunque alla categoria dove è una caratteristica peculiare. L'ho trovato molto largo a livello di piedi, di pianta del piede. Stringe molto bene invece il gambetto. Uno scarpone molto molto semplice nella calzata, è davvero comodo, lo si può tenere tranquillamente tutta la giornata, ha dei volumi fino a mai eccessivi anche per questa categoria di scarponi. Lo consiglierei sempre ai sciatori non troppo esperti, livello L3, L4, che vogliono appunto passare delle giornate sulla neve senza aver dolore ai piedi. Testato a secco, calzata veramente facile. Questo scarpone è stato concepito diciamo diversamente dai classici scarponi. Praticamente la zona del gambetto è stata montata all'opposto. Per far sì che coloro che sono alle prime armi avendo difficoltà nell'inizio curva, quindi avendo timore di vedere troppo le punte alla massima pendenza, lo scarpone concepito in questo modo agevola già l'appoggio della tibia sul gambetto. Tant'è vero che sono state installate dei fermi in cui il gambetto per evitare l'eccessivo piegamento si andrà a bloccare. È uno scarpone consigliato per un pubblico L3, L4 che vuole sciare in perfetta sicurezza. È uno scarpone sicuramente molto comodo nella calzata, largo in pianta e un po' nel tallone ed è uno scarpone che consiglierei soprattutto a gente che soffre mal di piedi o vuole star comodo tutto il giorno e consigliabile nei livelli L3, L4. Devo dire che l'ho trovato anche in pista uno scarpone molto comodo a livello di calzata. Mi ha stupito comunque in pista. Devo dire che posso confermare le caratteristiche che mi sono state spiegate ieri, ovvero una facilità in ingresso curva molto agevolata dal fatto che le plastiche siano effettivamente costruite in un blocco unico. Agevola molto la presa di spigolo, un pochino a scapito effettivamente dell'uscita curva che diventa un pochino più complicata ma effettivamente niente di problematico. Devo dire comunque che l'ho trovato molto molto comodo e sicuramente adatto a un uscidatore di livello L4, qualcuno che stia cercando delle sensazioni sì di comfort ma anche un po' più di sicurezza in pista. Scarpone testato in condizioni di neve ormai molle, non mi ha fatto impazzire, ho fatto un po' fatica a capirlo. Buono secondo me l'appoggio frontale del gambetto e il sostegno in generale del gambetto. Non mi è piaciuta però la pianta del piede, troppo a mio avviso troppo spazio per quello che è la conformazione del mio piede. Facevo fatica a gestire sia la rotazione degli sci sia le inclinazioni. Uno scarpone che ho trovato davvero confortevole, davvero comodo, non ha ambizioni di performance anche se devo dire che ha una discreta tenuta laterale per la categoria. Ovviamente è una tenuta frontale e posteriore non così buona ma consigliato per un livello L3. Quindi molto comodo, si può tenere tutta la giornata senza soffrire dolori pieni. Testato questa mattina su una neve ormai del tutto trasformata a molle, bagnata. Una scarpa davvero molto comoda. Testandola a livelli bassi si comporta discretamente. Aumentando di intensità non sono riuscito a trovare il giusto feeling. Ho fatto veramente tanta fatica, soprattutto a inizio curva in fase di inclinazione, vista un po' la neve ma vista anche la poca solidità della scarpa. Consiglio comunque questa scarpa ad un pubblico di L4. Appena testato, soprattutto comodo in entrata, curva, ma in tutta la tenuta diciamo. Sia nelle curve ampie che nelle curve più strette, ad esempio il contoraggio. L'ho provato anche a fare i livelli un po' più bassi, tipo L2, L3 ed è molto molto comodo. Lo consiglio a qualsiasi sciatore, da quello più bravo a quello meno bravo.